buongiorno un saluto allo staff di auto elite niente e ho terminato l'installazione di car tablet per mercedes classe c e niente in pratica un ottimo prodotto stupendo non immaginavo e vi faccio video qualche dimostrazione di qualcosa che ho imparato allora ci abbiamo le applicazioni eccolo qua al momento ho scaricato quasi poco youtube sport file e ma accendo youtube eccolo qua video istantaneo poi abbiamo ci abbiamo sempre su applicazioni abbiamo musica la musica del car tablet era la scaricata originale poi ci abbiamo i video ci abbiamo i video eccolo qua poi abbiamo la dashboard eccola qua perfettamente funzionante poi abbiamo andiamo nell'impostazione media entriamo interface 2 entriamo nell'impostazione della della macchina originale ci abbiamo la radio un attimo ve lo ripeto non è che sono molto pratico ancora ci abbiamo tutte le funzioni originali della macchina tutte le funzioni abbiamo comandi a volante abbiamo comandi a volante adesso adesso potrelle